Ora fermati, ascolta, io sono il tuo Dio, nessuno... La canzone nasce da un periodo caotico, ero di corsa, cercavo di stare appresso ai ritmi di questa vita e a un certo punto in ascensore ho sentito una frase che mi risuonava da giorni, ma in quel momento proprio mi ha bloccato, era fermatevi e sappiate che io sono Dio. Ho detto, Ilaria, fermati, ascolta, in mezzo a tutto questo caos c'è una voce sottile che ti parla. Mentre cominciavo a ragionarci poi già stava diventando canzone. Spero che possa raggiungere tanti, proprio in quei momenti della giornata in cui ci perdiamo il senso di quello che stiamo facendo, i momenti in cui c'è proprio bisogno di fermarsi e dire questo tramonto è per me, questo momento è per me, questo venticello che mi arriva e mi rinfresca è per me, i momenti in cui dire fermati e ascolta, perché cosa sto facendo le cose? Solo per amore è la risposta. Prenda su di me ogni errore che hai commesso, ogni lacrima che hai pianto, ogni taglio, ogni fe...